e ciao a tutti ragazzi bentornati da un gamer come voi oggi torniamo su ultimate team sono arrivati nuovi innovatori ragazzi potete vedere c'è anche cristiano ronaldo son la smith ma bando alle ciance andiamo ad aprire gli obiettivi siamo arrivati a livello 37 su 40 ci manca veramente poco ragazzi 2950 punti esperienza per arrivare a mateo scugna con e oppure un pacchetto 3 giocatori orari 86 più abbiamo completato anche il basi squadra liga portugal andiamo a prendere i premi loader inglese attaccante del porto 83 con velocità 88 83 74 85 36 81 non è male dai molto veloce anche lui prendiamo anche un pacchetto oro premium e riccardo e sgaio portoghese ad a spotting di portugal riccardo e sgaio 84 75 84 86 80 77 molto molto equilibrata come carta vediamo allora possibilità 4 pellevole 4 può fare anche terzino destro il difensore centrale ragazzi questa bella carta secondo me molto molto veloce come difensore centrale difesa gioco ad anticipo scivolata e primo controllo e adesso apriamo anche zalazar 85 centrocampista centrale sporting club de braga uruguayano 85 zalazar 83 81 82 85 74 79 anche questa non è una carta malvagia ragazzi tiro potente passaggio incisivo passaggio teso talento naturale tecnico e trivela questi dettagli attributo può fare anche centrocampista offensivo centrale carta niente male anche questa perfetto completate anche queste andiamo allora nel negozio partiamo subito pacchetto oro premium esterno sinistro cincinnati quindi una giocatrice bupe in benza 76 molto male allora andiamo avanti pacchetto oro premium portiere del west ham di premier league no park les west league arnold 79 non ci interessa nessuno ragazzi andiamo avanti giocatori oro portogallo esterno destro al nasr 82 otavio compagno di squadra di cristiano ronaldo e allora andiamo avanti giocatori oro prime piccolo cc manchester city attenzione 82 cova cc ce l'avevamo di già il nostro però è scambiabile lo mettiamo sul mercato allora pacchetto due giocatori difensore centrale il tottenham romero 82 nulla di che andiamo avanti pacchetto due giocatori ancora esterno destro del marsiglia sarra il bagatone sarra 94 di velocità ragazzi doppione nostro si può mettere sul mercato e lo mettiamo sul mercato e abbiamo anche lincoln via giocatore raro con valutazione 75 più attenzione ragazzi bsc barcellona femminile no chi è burrai della come ball che squadra è ragazzi barcelona sc non la conoscevo ragazzi della come ball allora arriviamo alla ciccia ragazzi allora partiamo prima con i più bassi perché abbiamo tanti belli partiamo prima col 78 più francia cc atletico 82 lemar ce l'abbiamo già lo scambiamo e lucas vasquez comunque non è male il nostro lemar lo mettiamo sul mercato perfetto arriviamo ai pacchetti ciccioni ragazzi allora prima l'80 più portogallo esterno destro benfica 82 joe mario mi sa che ce l'ha già ragazzi no non ce l'abbiamo l'abbiamo utilizzata allora ebrais mendes lo mandiamo a fare in ciulo eccoci qua allora 81 più siamo quasi vicini 84 e 85 più portiere del manchester city ederson ragazzi mamma mia walk out ederson ce l'abbiamo già non scambiabile ragazzi pacchetto due giocatori oro rari 81 più ragazzi abbiamo trovato ederson e aller nostro ederson è non scambiabile purtroppo quindi ci rivediamo tra poco ragazzi eccoci ragazzi utilizziamo ederson 88 e ci prendiamo jeffigno ragazzi cosa dite ci prendiamo jeffigno che è un as con 91 di velocità ragazzi non male jeffigno abbiamo dato madison abbiamo dato diaz abbiamo dato ederson abbiamo dato la martens borge iglesias hummels hugarte magree ford acerbi e la bull tutti non scambiabili ragazzi ci prendiamo jeffigno jeffigno è nostro più il pacchettino se non mi ricordo male ci ripigliamo ederson no niente pacchettino e si può prendere anche caio enrique poi più avanti che è un terzino sinistro ce lo teniamo nei preferiti e vediamo se lo possiamo sbloccare se finiamo è un pacchetto euro premium comunque allora concludiamo questa magnifica puntata ragazzi con gli ultimi 4 pacchetti 83 più un pacchetto giocatore con un giocatore attaccante del city 85 la show infatti non riuscivo a capire che il giocatore fosse show non scambiabile va bene uguale un 85 va benissimo e adesso si va ai pacchettoni ciccioni ragazzi prima pacchetto due giocatori oro rari 84 più vai tedesco esterno destro moonchan 84 gnabri potevamo avere di meglio ragazzi però va bene gnabri dai e scrignar paris saint germain ragazzi 84 più due 84 dai pacchetto 5 giocatori oro rari 84 più speriamo ragazzi non walk out dai almeno 86 dai ragazzi ci siamo cc del napoli quara no lo bocca sbagliato bandierina ragazzi niente lo bocca 84 ma dai ragazzi small in coca lo bocca hernandez e alex remiro molto male 84 più tutti 84 e adesso il pacchettone 85 più speriamo non 86 almeno ragazzi ultimo pacchetto di oggi flashato cc alilal ma di morte 86 86 milinkovic savic walk out mi interessava molto come giocatore però almeno 86 ragazzi e grilish che ce l'abbiamo già tra l'altro non scambiabile niente ce lo teniamo un attimo qua ragazzi ragazzi nel prossimo episodio cerchiamo di arrivare in divisione 5 ragazzi ci manca un po' perché siamo appena in divisione 6 proprio a pelo e manca poco alla fine della stagione ragazzi quindi ci vediamo nel prossimo episodio e cerchiamo di arrivare in divisione 5 ragazzi obiettivo divisione 4 niente ragazzi per questo episodio è davvero tutto vi ringrazio vi saluto vi chiedo sempre di lasciare un like commentate e condividete il video con i vostri amici ciao ragazzi